Ciao, oggi vi presento la corona sonora di un telefilm famosissimo che anche io da piccolino guardavo, ve lo devo confessare, che mi piaceva tantissimo e che anche oggi so che i ragazzi stanno seguendo anche i cartoni animati e stiamo parlando di Pippi Calzedunghi e mi ricordo che mi piaceva tantissimo anche la musica e visto che in tanti ragazzi me l'hanno chiesto io lo voglio proporre con un mio arrangiamento particolare devo solamente dirvi che questo brano si suona in sol maggiore vuol dire che abbiamo sempre la nota fa diesis che è questa qui che vedete vedete così sono tutti i fori chiusi tranne che l'indice della mano destra quindi tutte le volte che trovate il fa dovete suonarlo diesis questo ha oltre che essere un bel brano simpatico e divertente è anche una bella esercitazione per imparare a suonare il fa diesis è veramente abbastanza complicato se non riuscite a imparare bene vedrete che poi quando troverete il fa diesis riuscirete sempre meglio quindi buon ascolto buon divertimento e poi dopo la mia esecuzione come sempre troverete la base musicale e lo spartito grazie a tutti 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 grazie a tutti